Xur dal 28 al 30 aprile, vediamo cosa vende. Questa settimana come arma troviamo il trasgressore con Sì la minaccia, che ci permette di sparare raffiche di proiettili dalla precisione letale, e anche con impenitente, ricaricare dopo un'uccisione fornisce una super raffica più potente duratura. Arma divertente da usare in crogiolo, quindi consigliata. Per il titano invece troviamo pugni dell'immolazione, con pyro acceleratore, che ci permette di ottenere la pyro esplosiva della sottoclasse dello spezzasole. I nemici abbattuti dal martello esplodono, consigliata con riserva in pvp in base al vostro stile di gioco. Per il cacciatore invece troviamo radar zuccone con sensore di scorta, il radar ci resterà visibile quando muriamo con le armi primarie. Anche questo pezzo è consigliato con riserva. Per lo stregone troviamo mente d'ossidiana con insaziabile, le uccisioni con bomba nova riducono il recupero della prossima bomba nova. Ve lo consiglio con riserva, visto la sua utilità comunque molto risicata. Concludiamo con i pacchetti di armi che questa settimana sono Vituperio e Telesto.